solo dal titolare. Continuiamo a parlare di queste novità sui buoni pasto con il nostro ospite collegato da Firenze, Aldo Cursano, Vicepresidente Fipe Confcommercio, Federazione dei Pubblici Esercizi. Benvenuto. Grazie dell'invito, buongiorno. Buongiorno. I buoni pasto dunque possono essere utilizzati un po' dappertutto quindi, non solo per fare la spesa e per il servizio mensa. Come settore del commercio, siete soddisfatti di questa novità? Assolutamente no, perché cambia la natura, la funzione, da uno strumento sostitutivo di mensa diventa un buono acquisto, tratendo in qualche modo la funzione e quindi noi pensiamo che la speculazione che in questi anni si è creata intorno a questo importante strumento che ripeto dovrebbe soddisfare la necessità di alimentazione del lavoratore, si è creato un meccanismo di speculazione che parte proprio dalla fase di aggiudicazione dove un valore condiviso viene messo a ribasso, è come se si condivide di dare un panino al nostro lavoratore si ribassa del 20% e quindi è come dare un morso a un panino condiviso. Quindi c'è un meccanismo speculativo che questa norma non affronta, ne allarga l'utilizzo ma tradisce la funzione, ecco perché anche un meccanismo così complicato, cartaceo, crea una difficoltà di gestione, di rendicontazione, di rimborso. Ecco perché se deve fare la funzione di buono spesa tanto vale lasciare i benefici fiscali e contributivi ma mettiamolo in busta paga. Certo, quindi cos'è che dovrebbe essere modificato secondo voi? Io ritengo che il valore facciale del buono dovrebbe corrispondere al valore reale, ma le commissioni, il sistema anche di rendicontazione, di speculazione che c'è anche nei tempi, nei costi, lo hanno reso in qualche modo insostenibile. Quindi la norma non affronta il tema a cuore e secondo me dovrebbe premiare la qualità dell'offerta ma partendo dal presupposto che il diritto di alimentarsi non può essere messo al ribasso. Qui è il problema di fondo che ancora non è stato affrontato e noi lotteremo per riportare il valore del buono lasciando al consumatore il diritto di utilizzarlo come ritiene opportuno. Diversamente mettiamolo, monetizziamolo. Chiaro, chiara la vostra posizione, grazie per essere stato con noi e andiamo avanti.